Ludopatia. Dopo numerose sedute d'aula, la proposta di legge di contrasto, la diffusione del gioco d'azzardo patologico, viene sospesa e nelle prossime settimane sarà presentato un disegno di legge della Giunta. La decisione è stata presa con 23 favorevoli e 17 non votanti. Per noi è solo un cambio di strategia, hanno spiegato il capogruppo della Lega Alberto Prioni e il primo firmatario Claudio Leone. Il nostro è un arrivederci a tra poche settimane. È una sospensione dettata dal mondo che ci chiede con celerità di arrivare a modificare la nuova 2016 per poter riavere dignità, per poter riavere un posto di lavoro con 65.000 emendamenti. 10-11 mesi di aula non ci consentivano di poter portare in un tempo ragevolmente breve al compimento della PDL. A difesa della legge regionale 2016 è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico, Raffaele Gallo. Viene respinta questa seconda tentativa di modificare la legge. È un punto di equilibrio, la legge 9 del 2016, molto avanzato. È un punto di equilibrio tra salute e lavoro. Abbiamo tenuto insieme, abbiamo contemperato entrambi gli aspetti, perché un tema così importante va guardato a 360 gradi. Non vi riconosciamo il diritto di calpestare l'opposizione, ha dichiarato Shonsacco, Movimento 5 Stelle. La marcia indietro sulla proposta di legge è significativa anche delle spaccature all'interno della maggioranza. Paolo Ruzzo, la Forza Italia ha ribattuto. La coalizione di centrodestra non è mai stata messa in dubbio. Condividiamo la richiesta del presidente Preioni di sospendere la discussione per approfondire e migliorare il testo. Non è un passo indietro, ma un deciso passo avanti. Per Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, queste giornate non sono andate sprecate. Abbiamo anche incontrato i lavoratori del comparto. È chiaro che siamo tre partiti con sensibilità differenti, ma questa legislatura è quella che ha prodotto più provvedimenti a favore del territorio. Critico Mario Giacone, Monviso. La democrazia e sistema di pesi e contrappesi. Se si entra in aula rifiutando il confronto, questi sono i risultati. Marco Grimaldi, di Liberi Uguali Verdi, ha aggiunto La nostra difesa dell'ottima legge per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico ha mandato in frantumi la proposta di legge Leone e in tilt la maggioranza. Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre, ha affermato La maggioranza sospende la proposta di legge perché non ha i numeri. Avete perso la scommessa. Per Silvio Magliano, moderati, le ragioni scientifiche contrarie a questa norma rimarranno le stesse. Vedremo come e se il futuro disegno di legge metterà risorse sul contrasto alla ludopatia.